Grande partita per il Deportivo! Vabbè va, continua l'imbattibilità di Deportivo Aperitivo Ormai è abitué ormai Ormai è abitué, tra l'altro così festeggia un buon compleanno Gaio no? Domani! Domani, vabbè per domani E' forte! E' forte! Credo che gli avete fatto un po' male Per festeggiare insieme a Gaio in pagina Oggi insieme a Gaio ci siamo Sì sicuramente Comunque bella partita, dominata sin dall'inizio Anche se devo dire che io A metà tempo abbiamo Sì sì, qualche errore di troppo in difesa Voi avete approfittato Non li vedevo, rispetto al nostro solo Siamo un po' flow shop E' perchè siamo troppo forti noi Io non voglio giocare più con questo portiere Li pare solo a me Giuro sulla metà di tre tiri solo a me Peccato che pericolo ha giocato, sono due partite Vabbè è ancora E ancora Zero gol Zero Ci sarà tempo Invece Gaio ha fatto molti gol Etro oggi ha fatto un gol e Eurogoal Comunque penso che le nostre interviste sono le più brutte dell'interschool Non è vero, smentisco No perchè gli altri parlano tranquillamente, noi facciamo sempre cacciare Ce lo zocco con me Purato che si è zoppicato vent'anni fa No vabbè ora ritornerà Comunque ragazzi continuate sempre su questa strada Tra l'altro abbiamo visto oggi una bella partita anche di Ivan Di Franco giustamente Che il nuovo acquisto subito si è inserito alla grande Tu che sei il nuovo acquisto, l'ultimo arrivato si è inserito subito alla grande Si con i ragazzi andiamo alla grande Poi con sto scarsone Speriamo che non si infortuni Però va bene Prossimo turno il Real Menabrea Devono ancora giocare il Real Menabrea La prima partita hanno vinto contro il Brasileiro No ma noi sono... sono... Ma chi abbiamo? Il Real Menabrea Conosco Riccardo Nielo Comunque ragazzi continuate così ripeto e ci vediamo la settimana prossima Grazie ragazzi